Ecco i terribili tre avvertimenti e sette castighi. Forse non lo sapete ma i famosi dieci segreti di Meciugori che sono stati ricevuti su una pergamena e scritti in codice cifrato e che saranno letti soltanto dalla persona incaricata a farlo a tempo debito sono suddivisi in tre avvertimenti e sette castighi. I tre avvertimenti di cui si parla in questi segreti riguardano molto probabilmente piaghe che colpiranno l'intera umanità e che potrebbero riferirsi a virus pestilenza. Magari il Covid-19 è stato uno di questi avvertimenti che sono dunque in corso. Importante sarà il terzo segreto che sarà quello che farà capire che tutti i segreti con le relative profezie scritte al loro interno sono reali. Un segno che Dio donerà a tutti noi sulla terra probabilmente nel luogo di Meciugori e che sarà così meraviglioso straordinario che farà ricredere molte persone tutte quelle che ancora non credono alla Madonna e alle sue apparizioni in quei luoghi. Uno dei peggiori segreti è comunque il settimo in cui si parla di un orribile evento mondiale, di un grandissimo castigo che il Signore ha deciso di dare all'umanità perché oramai si è allontanata da Lui. La Veggente che lo ha ricevuto ha pregato la Madonna che potesse intercedere e chiedere al Signore di alleviare le sofferenze di questo infausto evento e castigo e la Madre di Dio in parte ha accettato questa supplica anche grazie alle preghiere, alla penitenza, alla confessione e conversione di molte persone nel mondo. Ma quando saranno rivelati questi segreti? Ebbene la Veggente Miriana dice che dieci giorni prima degli eventi ella dovrà pregare e digiunare insieme a Padre Petar Ljubicic scelto appunto per rivelare al mondo i segreti ed esattamente tre giorni prima che si verifichi l'evento verrà rivelato a tutti noi da Padre Petar Ljubicic. Bisogna chiarire che dopo gli eventi profetizzati nei segreti verrà un periodo meraviglioso e straordinario di pace e serenità che non ha nulla a che vedere con quello che stiamo vivendo adesso. Coloro che pregano, temono Dio, si confessano, vivono l'Eucaristia non dovranno avere paura dei castighi perché non ne saranno colpiti ma guai a coloro che non seguono la parola del Signore e vivono esclusivamente nella mondanità nel peccato rifiutando la sua parola. Bisogna tener conto che Padre Petar potrà soltanto comunicare il primo dei dieci segreti e non tutti gli altri che non potrà vedere. Comunque egli dice in un'intervista che i primi due segreti sono raccomandazioni e ammonimenti legati ai luoghi di Meciugori dove la Madonna non appare da circa 40 anni. Quindi con questi due segreti il mondo intero saprà con certezza finalmente che Meciugori e le sue apparizioni sono reali. Nel terzo segreto invece si parla di un segno visibile sulla collina delle apparizioni che la Madonna vuole per tutti coloro che già amano Dio e credono in Lui ma anche per coloro che non si sono ancora convertiti. Dopo questo segno importante è che porterà una grande gioia a coloro che lo accoglieranno nel loro cuore e nella loro vita sarà necessario che molti uomini e donne si convertano e accettino la parola di Dio nella loro vita poiché potrebbe essere troppo tardi dopo questo evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.